Ho visto foto di code pazzesche, tutto per parlare di questo nanerottolo di cui francamente si sperava di avere ormai imparato a fare a meno. Io quando ho scritto questo libro, cioè in piena campagna elettorale, mi sono fatto violenza fino all'ultimo per non scriverlo, anche perché ne stavo facendo un altro. E poi invece mi sono reso conto, perché leggevo da tutte le parti, che c'era una grande rimonta, un grande boom, una grande resurrezione, che stava tornando alla grande, che sarebbe stato lui il vero vincitore delle elezioni, che stava facendo una campagna elettorale meravigliosa, geniale, era informissima proprio. Io francamente non mi pareva, ecco, a vederlo in televisione sembrava rincoglionito, ma proprio di brutto. Un giorno è andato alla Confcommercio, ha detto, vi ricordate quando ho alzato le pensioni a mille lire e allora bastavano? Che io ricordi, lui aveva alzato le pensioni quando c'era già l'euro, tra l'altro, e mille lire bastavano quando c'era la canzone, mille lire al mese. Se potessi avere mille lire al mese, è del 1938, credo. E lui aveva due anni, tra l'altro. Quindi come cazzo fa a ricordarsi di quando bastavano mille lire al mese? Voleva dire mille euro, ma non c'è riuscito, tant'è che poi l'hanno corretto e gli ho detto, no, sono euro, no? E lui ha detto, ah sì, a un milione di euro le ho alzate. Cioè non ha più la percezione nemmeno della moneta corrente. nonché di tutto il resto, non so se avete notato, un giorno, e questa è la mia preferita in assoluto, quindi me la brucio subito, è sua, comunque non è mia. Lui ha detto, appena andiamo al governo, rimpatriamo 600.000 immigrati clandestini, perché ho saputo che i clandestini entrano nelle nostre case, mi ha detto una signora, vanno subito al frigo, lo aprono, prendono l'olio e si attaccano alla bottiglia. E tutti facevano di sì, no, come dire, ma chi non la sa sta cosa, è un fatto notorio, no, l'immigrato, vengono apposta in Italia proprio per attaccarsi alle bottiglie dell'olio che non so quale famiglia italiana tenga in frigo, a me non risulta che l'olio si tenga in frigo. Quindi entrano in una casa, magari c'è il televisore, lo stereo, dei computer, delle cose anche più interessanti di una bottiglia, loro niente, proprio impassibili, vanno, puntano direttamente al frigo dove sanno già che c'è la bottiglia dell'olio, immancabilmente, e si attaccano alla bottiglia. Qualcuno gli ha detto, ma come fa a saperlo? Dice, ah, lo chiede alla signora che me l'ha detto, dice che la polizia ha trovato le impronte delle labbra sul collo della bottiglia. Il giorno dopo ha detto, lo diranno che è completamente andato, cioè è più fuori di un balcone uno che dice una stronzata del genere. Invece il giorno dopo hanno detto, un Berlusconi in gran forma ha raccontato questa cosa dell'olio, dei clandestini, adesso li rimpatria, quindi l'olio è in salvo. E quindi ho detto, forse vale la pena fare un pezzo, perché mi rendevo conto, parlando con i miei figli, che hanno 20 e 23 anni, che sono nati nell'Italia di Berlusconi, non hanno mai conosciuto la politica senza Berlusconi, cioè non hanno mai conosciuto la politica. E però, quando hanno cominciato a interessarsi di politica perché dovevano votare, già Berlusconi era tramontato. Hanno votato per la prima volta mio figlio nel 2013, quando Berlusconi perse 6 milioni e mezzo di voti in una botta sola. E quindi era dato già al tramonto, no? E nessuno poteva pensare che 5 anni dopo ce lo saremmo ritrovato ancora fra le palle. Però, dato che tutti dicevano che c'era questo grande rimonto, ho detto, ma forse almeno per quelli che non sanno chi è giovani e per quelli che sapevano chi era, ma se lo sono scordato, perché nel frattempo sono passati degli anni, forse un riepilogo delle puntate precedenti, dei suoi primi 82 anni, può essere utile, no? Perché anche vederle tutte insieme in fila, in ordine cronologico, quelle che è riuscito a fare, a parte che un criminale normale non riuscirebbe nemmeno in dieci vite a fare tutto quello che lui è riuscito a fare in una sola. E non è ancora finita, no? Tra l'altro. La madre ci lasciò a 97 anni e il padre a 93, credo, quindi c'è ancora molto tempo. E agli inizi, diciamo, sta gattonando. Allora ho detto, forse un riassuntino, poi il riassuntino minimo, ovviamente sono 389 pagine, cioè meno non si poteva fare. Un riassuntino della vita, delle opere, dei delitti, delle figure di merda che ha fatto a livello mondiale, anche delle bugie che ha raccontato, delle sentenze che sono state scritte su di lui, poteva essere utile. Poi ci sono state le elezioni e il titolo B, come basta, diciamo che è stato preso sul serio da un discreto numero di elettori, anche del centrodestra, no? Che hanno deciso di premiare Salvini e Lameloni, che insieme fanno quasi il doppio dei voti che ha preso Berlusconi, che è arrivato a un misero 13%. E lì, allora, hanno ricominciato, tutti quelli che dicevano in gran forma, grande vittoria sta arrivando, li sfonda tutti, è alla grande, eccetera, hanno cominciato a dire, beh, avete visto come è ridotto, l'avevamo detto noi, che era mal ridotto. Questa è la dimostrazione che non c'è nessun conflitto di interessi, perché il fatto che sia miliardario, che abbia tre televisioni, un pezzo di Rai, Stato, Parastato, qualche giornale, assicurazioni, banche, finanziarie, soldi all'estero anche e soprattutto, non influenza minimamente, no? Avete visto appunto Salvini, che non ha neanche un giornale, l'ha chiuso, la Padagna, ha preso molti più voti di lui, la Meloni, non ha nessun giornale, ha preso il 5%, cioè quasi la metà di quello che ha preso Berlusconi, quindi è al tramonto, non conta niente, adesso ovviamente Salvini farà il bello e il cattivo tempo, gli darà gli ordini, lui obbedirà e farà un po' quello che decide Salvini. Meno male che il conflitto di interessi non conta nulla, infatti avete visto Salvini, poveraccio, no? Ogni tanto esce fuori dicendo adesso gliela faccio vedere io a Berlusconi, eccetera, poi a un certo punto parte un fischio a ultrasuoni, no? Che può sentire soltanto lui e Salvini immediatamente riporta l'osso ad Arcore, regolare, anche ieri, no? Ha detto, la faccio io, l'ha dichiarazionato, ha detto, sì ma la scrivo io. Infatti Salvini ha letto una cosa scritta da Berlusconi e Berlusconi faceva così per far vedere che quello legge, ma lui scrive. E alla fine, finto di avere concluso, ha sospinto i due alleati, ha afferrato in estremi su un microfono, ha detto guardatevi da chi non conosce l'ABC della democrazia, che sembrava la sua autobiografia in estrema sintesi, invece lui stava parlando dei Cinque Stelle. E così, con una battuta e una gag, ha fottuto tutto quello per cui Salvini lavorava da 40 giorni, cioè cercare di smarcarsi e di mettersi al governo con i Cinque Stelle per cambiare qualcosa. E infatti oggi Mattarella ha preso atto che non si muove nulla e ha dato i quattro giorni a Salvini o risolve entro quattro giorni questo problema che si chiama Berlusconi, oppure parte l'esploratore che potrebbe essere la Casellati, potrebbe essere Fico, potrebbe essere qualche altra figura che ancora noi non immaginiamo. Ma, dato che di questa crisi non si capisce niente e non si può dire niente fino a quando non si sbloccherà qualcosa, questa è una crisi che nasce dal fatto che ci sono due partiti che hanno governato per 25, negli ultimi 25 anni, cioè il Partito Democratico e Forza Italia, che bloccano la situazione, no? Uno perché non vuole fare niente e l'altro perché vorrebbe fare troppo. Sarebbe meglio il contrario, cioè che il PD facesse qualcosa e che Forza Italia si rassegnasse al ruolo che le hanno assegnato i suoi elettori, e cioè di quarto partito. Le cose non collimano e quindi staremo a vedere che cosa succederà. Credo che però, proprio quello che è successo ieri e in questi 40 giorni, dimostri che forse quel riepilogo non era una cattiva idea e che chi non conosce la vita e le opere di Berlusconi non può capire quello che sta succedendo in questi giorni, anche nella fase, anzi proprio perché siamo nella fase politica terminale di Berlusconi. se conta ancora così tanto, con così pochi voti, evidentemente c'è qualcosa che non sappiamo e che lui sa, c'è qualcosa che noi non ricordiamo e che lui ricorda benissimo sul suo modo di fare politica. E' sufficiente che voi facciate mente locale, se avete almeno la mia età, se siete più giovani, non c'eravate per vostra fortuna quando succedevano queste cose, o almeno le prime, facciate mente locale a tutti i personaggi della politica che hanno osato mettersi di traverso sulla strada di Berlusconi. Come sono finiti? Malissimo. Il primo era Gianfranco Mascia che fondò i comitati Boicotto al Biscione, fu sodomizzato con una scopa, con un manico di scopa. E fu pressoché il più fortunato, perché gli altri, chiunque in politica si mettesse di traverso, gliene sono capitate di ben di peggio. Di Pietro fu travolto dai dossier raccolti dagli amici di Berlusconi, che poi si rivelarono delle patacche, almeno dal punto di vista penale, ma che servirono a tenere Di Pietro sotto inchiesta e sotto processo per anni, negli anni in cui era più popolare, una volta lasciata la magistratura a causa di uno di quei dossier. Gianfranco Fini fu buttato fuori da un dossier. Io non sto neanche discutendo se i dossier contengano cose vere o cose false, perché alcune volte contengono cose vere, altre volte cose false, a volte un miscuglio di cose vere e cose false. Quello che mi interessa è la tempistica. Lui tiene dei dossier e appena qualcuno fa qualcosa contro di lui li tira fuori. Dino Boffo aveva avuto una sentenza che lo dichiarava colpevole di avere molestato una persona, ma era di due anni prima. Perché l'hanno tirata fuori due anni dopo? Perché Dino Boffo, direttore dell'Avvenire, due anni dopo criticò certi comportamenti nella vita privata di Berlusconi sull'Avvenire, sul giornale dei Vescovi e tac immediatamente venne fuori la condanna. Due anni prima sarebbe stata cronaca, due anni dopo si chiama rappresaglia. Fini, era vera la storia della casa di Monte Carlo, era una caccola rispetto alla monumentale carriera criminale di Berlusconi, ma nessuno deve avere nemmeno una macchiolina nel suo curriculum se vuole mettersi contro Berlusconi. E anche se poi la macchiolina non ce l'ha, a quelli gliela disegnano. Pensate ai casi di Marrazzo, ai casi di Mitrokin, al caso di Fassino, al caso Telecom Serbia. Sono tutti dossier passati per le mani dell'entourage di Silvio Berlusconi. E ne ho sicuramente dimenticati un sacco. Ma domani, anzi dopo domani, sul Fatto Quotidiano, faremo due belle pagine sinottiche per ricordare a Salvini la fine che rischia di fare se non ha un curriculum immacolato, a meno che non glielo sporchino loro, naturalmente, con cose inventate. Una quindicina d'anni fa, in un ufficio di via nazionale, saltarono fuori alcune decine di migliaia di dossier, lo ricordo bene perché uno aveva il mio nome, messi insieme da tal Pio Pompa, braccio destro del generale Pollari, capo del Sismi, che non contenevano ovviamente notizie che spetta a raccogliere ai servizi segreti, cioè contro i nemici dell'Italia. Contenevano notizie contro i nemici di Berlusconi, o almeno contro quelli che lui riteneva essere i suoi nemici, magistrati e giornalisti. E la stessa attività di dossieraggio faceva quella costola dei nostri servizi segreti, che però era privata e che si chiamava security alla Telecom, ai tempi di un certo Tavaroli, che era il capo della security della Telecom e che collaborava con una spia del Sismi e che riceveva dai nostri servizi dei dossier che venivano utilizzati anche politicamente contro chi si metteva di traverso sugli interessi della Telecom e che in quel momento era super berlusconiana. La storia di questi 25 anni è piena di dossier. Roberto Maroni, che fu ministro dell'Interno nel primo e nel terzo governo Berlusconi, quando lasciò il primo governo Berlusconi, durato solo sette mesi, disse che Berlusconi, ogni volta che qualcuno entrava nel suo ufficio, gli mostrava un dossier con scritto Scalfaro. Scalfaro era il Presidente della Repubblica e Berlusconi aveva un dossier che mostrava per dire che lui controllava e teneva sotto scacco il Presidente della Repubblica. Ieri, e chi ha letto il Fatto Quotidiano l'ha visto sul giornale di oggi, quando ho visto quella gag fatta apposta da Berlusconi per mortificare i suoi alleati e per far capire che anche col 13% continua a comandare lui, e se non ha più la forza di dettare la linea, ha almeno la forza di impedire ai suoi alleati di avere una linea, mi è venuto in mente che forse tra i tre l'intruso era Berlusconi. Perché se voi pensate che un pregiudicato per frode fiscale viene ricevuto al Quirinale e si siede di fianco al Presidente della Repubblica che gli chiede le sue idee per il prossimo governo, cioè, davvero? Davvero stiamo vedendolo? Davvero sta accadendo? E quindi mi è venuto in mente di ricordare che in fondo quello che ieri ha fatto quella gag non è un comune pagliaccio, è un delinquente che sta nel posto sbagliato e sta nel posto sbagliato perché tutti gli consentono di andare in quel posto lì e di fare lo scemo sotto le auguste volte del Quirinale. Allora ho fatto un titolo Il delinquente umilia Salvini insulta i 5 Stelle e spera nel PD che è il suo refugio un peccatorum proprio quando non sa più a chi santo votarsi dice speriamo che il PD mi dia una mano. Sono 25 anni che gliele danno tutte vinte e lui ci spera anche questa volta. E' notizia di poco fa che Renzi ha rinviato l'assemblea che doveva dare al PD un altro leader. Non la fanno più il 20 ma la fanno dopo con comodo. Tanto non c'è nessuna fretta, no? Di sapere il secondo partito italiano da chi è guidato. C'è un reggente un autoreggente anzi certo Martina che non rappresenta neanche se stesso e quando gli dicono lei è leader del PD si volta immediatamente pensando che ci sia dietro il leader del PD però siamo in queste condizioni. Quindi ho fatto questo titolo mi sembrava tecnicamente esatto il delinquente un condannato per frode fiscale voi come lo chiamereste? Ah no scusate vi devo solo avvertire di una cosa ci deve essere un tavolino qua sotto dopo se c'è qualcuno che vuole poi una firma sul libro la facciamo alla fine fine dell'annuncio. Dicevo mi sembrava esatto come titolo cioè un condannato per frode fiscale è un delinquente voce del verbo delinquere participio presente nel senso che è tuttora in attività non poniamo limiti alla provvidenza come diceva Daniele Luttazzi per Berlusconi il codice penale è un catalogo di opzioni quindi forse gli manca l'abbigeato il furto di bestiame cose di questo genere ma insomma sta lavorando Ghedini se l'è presa per il nostro titolo di stamattina leggo dal sito di Libero inteso come giornale giornale si fa per dire naturalmente un foglio satirico involontario il titolo è Travaglio ma vergognati la prima pagina schifezza violenti insulti al CAV guarda così uno clicca e trova delinquente che è la definizione più esatta di uno che non è più nemmeno cavaliere proprio perché è un delinquente e non è più senatore proprio perché è un delinquente e non può più essere eletto perché è un delinquente se no sarebbe eletto Niccolò Ghedini legale di fiducia di Silvio Berlusconi ha annunciato che adirà le vie legali contro il direttore del fatto quotidiano Marco Travaglio per il titolo su Berlusconi di oggi in prima pagina in cui il leader di Forza Italia è indicato come il delinquente spiega Ghedini i toni e i contenuti della critica politica possono essere più aspri e severi che non nella normale dialettica ma il titolo e l'articolo della prima pagina del fatto quotidiano di quest'oggi travalicano qualsiasi limite giuridico e deontologico sconfinando nella più evidente contumelia e appaiono davvero inaccettabili ovviamente saranno esperite immediatamente tutte le azioni giudiziarie del caso ecco mentre lui esperisce e adisce io tengo a precisare che non era affatto una critica politica il delinquente era proprio una definizione una cosa diversa che non è mia tra l'altro io prima di dargli dell'elinquente avevo aspettato che lo condannassero in via definitiva è stata una lunga attesa ma alla fine ce l'abbiamo fatta il primo agosto 2014 io non mi ricordo nemmeno i compleanni niente però quello primo agosto 2014 la seconda sezione penale presieduta da Antonio Esposito che Dio lo benedica pronunciava la definitiva sentenza di condanna a quattro anni del delinquente per frode fiscale la condanna era ovviamente frutto di una sentenza di primo grado del tribunale di Milano che aveva condannato Berlusconi a quattro anni che poi era stata confermata in appello e che poi è stata confermata in cassazione che cosa dice la sentenza definitiva sul caso dei diritti Mediaset si parla sempre di diritti Mediaset come se fossero dei suoi diritti no i diritti sono i soldi che uno deve pagare a una casa cinematografica per avere il diritto di trasmettere i suoi film in televisione quindi praticamente Mediaset comprava i film dalle major americane di Hollywood invece di comprarli direttamente di dire quanto viene questo film non ho idea del prezzo questo film viene 100.000 euro benissimo no non faceva così Mediaset Mediaset incaricava una società offshore di comprarlo e poi di venderlo a un'altra società offshore quindi da 100 andava a 120 che la vendeva a una terza società offshore che così andava a 160 e poi una quarta società offshore così andava a 180 e poi lo comprava dall'ultima società offshore e lo pagava 200 voi dite ma che siete scemi pagate una roba che vale 100 200 perché? intanto perché così pagavano meno tasse e quei 100 di surplus chi li pigliava? Berlusconi perché le società offshore su cui rimbalzavano questi diritti con lievitazione progressiva del prezzo erano sue in mano a suoi prestanomi quindi lui truffava la sua società quotata in borsa gli azionisti che non fossero lui e lo Stato mettendosi in tasca fondi neri lasciandoli all'estero non pagandoci le tasse lui facendo pagare meno tasse a Mediaset insomma era contento a Mediaset era contento lui gli unici che se lo pigliavano nel culo eravamo noi che naturalmente pagavamo più tasse per colmare il buco che la sua frode fiscale sommata a quella di tutti gli altri frodatori fiscali creavano nelle casse dell'erario questo è un meccanismo che è andato avanti vent'anni i magistrati avevano accertato frodi fiscali per 368 milioni di dollari Berlusconi è stato condannato per 7,3 milioni di euro tant'è che poi ha detto ma è poco con tutte le tasse che pago è certo sono quelli sopravvissuti alla prescrizione perché è andato tutto in prescrizione tranne 7,3 milioni di euro di ammortamenti sugli ultimi due bilanci perché lui durante il processo ha fatto la legge ex Cirielli che ha dimezzato i termini di prescrizione altrimenti sarebbe stato condannato per frodi fiscali ben più gigantesche e non avrebbe preso quattro anni di cui tre indultati e uno trascorso in un ospizio per anziani non autosufficienti incolpevoli tra l'altro poveracci incolpevoli di tutto a Cesano Boscone questa è la storia dell'unico processo che si è riusciti a concludere sia pure per una piccola coda che lui non era riuscito a mandare in prescrizione però è una cosa gravissima che in un altro paese segnerebbe la fine della carriera politica e anche umana del condannato sentite cosa dice il tribunale poi confermato dalla Corte d'Appello e di Cassazione l'imputato ha dimostrato una naturale capacità a delinquere una naturale capacità a delinquere è un delinquente naturale genetico gli viene naturale se lui deve scegliere dice che faccio delinque o no delinque è portato naturalmente a delinque non c'è niente da fare è irresistibile è più forte di lui non può fermarsi di questa evasione fiscale notevolissima ideatore dominus indiscusso e beneficiario di un disegno criminoso a me non mi ci stavano tutte queste parole nel titolo di ieri sarebbe piaciuto no? delinquente naturale autore del disegno criminoso ho messo delinquente che mi sembrava così acqua fresca Ghedini si è già incazzato figuratevi se mettevo pure delinquente naturale autore beneficiario ideatore beneficiario del disegno criminodi pigliava uno stranguglione no? a Ghedini così ho sintetizzato ho messo delinquente effettivamente riassumendo la sua biografia l'unico atto non criminoso è la nascita quando è nato nessun delitto pensavo anche l'infanzia e l'adolescenza invece no lui ha tenuto a smentirlo subito quando ha detto che da piccolo passava i compiti ai compagni in cambio di denaro o di altri favori il codice penale dice altre utilità è una definizione per la corruzione ovviamente sapete che lui è il figlio di un dirigente della banca Rasini che Michele Sindona descrisse come lo sportello della mafia nella città di Milano quando i mafiosi dovevano depositare andavano alla Rasini e lì chi incontravano allo sportello il padre la madre casalinga 1954 lui nasce nel 36 1954 maturità classica dai salesiani si iscrive alla statale a giurisprudenza laureato a pieni voti codice penale codice penale articolo per articolo lo frequenta fin dalla più tenera infanzia infatti spunta poi no? gli articoli cielo 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 manca cielo cielo a tempo a tempo perso vende spazzole elettriche porta a porta fa il fotografo ai matrimoni e ai funerali suona il basso e canta nella band del suo amico fedele con faroniera anche sulle navi da crociera della compagnia Achille laura 1957 lavora saltuariamente in un'impresa immobiliare e mentre dà esami all'università conosce alla statale di Milano un giovane studente palermitano che ha 4 anni meno di lui Marcello Dell'Utri che gli fa da segretario 1961 Berlusconi si laurea in legge 110 e lode tesi su il contratto di pubblicità per inserzione e vince una borsa di studio di 2 milioni dalla concessionaria Manzoni non si sa come evita il servizio militare forse all'epoca non c'erano tutte le scappatoie che poi arrivarono dopo all'epoca era regolare che si faceva lui non l'ha fatto si dà all'edilizia acquistando per 100 milioni un terreno in via alciati grazie a una fideiussione data in garanzia dal banchiere Carlo Rasini che era il datore di lavoro di suo padre nel 63 fonda la Edilnord SAS i soci accomandanti sono Carlo Rasini stesso è un commercialista svizzero a nome di una finanziaria di Lugano che si chiama Finanzierungel Schaft for Residenzen Ag di cui non si conoscono i proprietari Berlusconi non risulta mai proprietario delle società di cui è proprietario risulta socio d'opera operaio 1964 apre un cantiere a Brugherio per edificare una città modello da 4000 abitanti un anno dopo il primo condominio è pronto ma Berlusconi non riesce a vendere neanche un appartamento poi non si sa come tutto lo stabile viene acquistato dal fondo di previdenza dei dirigenti commerciali nel 69 l'operazione Brugherio è ultimata con mille appartamenti venduti nello stesso anno Berlusconi sposa una signora di Genova una ragazza di La Spezia Carla Elvira Dall'Olio madre poi dei suoi due primi figli Marina e Pier Silvio detto Dudi 1968 la Edil Nord compra per 3 miliardi 700 mila metri quadri di terreni nel comune di Segrate dove Berlusconi intende edificare la città satellite di Milano 2 l'operazione è un po' difficile perché perché su quei terreni praticamente atterrano gli aerei che stanno arrivando a Linate cioè proprio se costruisci anche un piano soltanto l'aereo che arriva a Linate ti porta via il tetto infatti sono terreni non edificabili perché a nessuno è mai venuto in mente di edificare niente a lui viene in mente evidentemente sa già che gli aerei non atterreranno più lì come può essere che cambino addirittura le rotte aeree dell'Alitalia è molto semplice Berlusconi regala a un prete suo amico un prete affarista Don Verze quello del San Raffaele eccetera eccetera un piccolo angolo di quei terreni dove Don Verze edificherà così dicono l'ospedale San Raffaele Don Verze mette una pietra la prima pietra dell'ospedale a quel punto Berlusconi va a Civilavia e dice mettetevi una mano sulla coscienza come potete far atterrare gli aerei su un ospedale quelli magari vorrebbero controllare se eventualmente c'è l'ospedale oppure c'è solo la prima pietra ma poi lasciano perdere anche perché Berlusconi ha sempre avuto ottimi argomenti affinché chi deve controllare chiuda non solo un occhio ma tutti e due per cui si convincono che l'ospedale ci sia e così spostano le rotte aeree da un centro disabitato la futura Milano 2 a un centro abitato da migliaia di persone che dall'oggi al domani si vedono sfrecciare gli aerei dentro i camini dentro i tetti nelle soffitte eccetera con un rumore pazzesco un inquinamento acustico mostruoso nascono centinaia di comitati anti rumori assegrate perché lui ha fatto spostare le rotte per salvare dall'anquinamento acustico tutti i malati di un ospedale che non c'è naturalmente i terreni quando vanno via gli aerei immaginate quanto moltiplicano il loro valore una meraviglia e così tutti quelli che si vedono piovere gli aerei sulla testa dall'altra parte cercano casa a Milano 2 e lui ci fa pure i soldi una cosa meravigliosa la prima truffa di una lunga serie di una carriera ancora incompiuta naturalmente manca la licenza edilizia i lavori sono abusivi ma non c'è problema Berlusconi dirà anni dopo in un attimo di lucidità e di sincerità all'epoca bisognava andare negli uffici regionali con l'assegno in bocca lo disse un giorno che voleva dimostrare che lui non ha mai pagato tangenti no? disse sì lì bisognava andare con l'assegno in bocca gli dissero ah interessante i magistrati lui poi disse no scherzavo mancherebbe intanto continuano a nascere società edilizie sue i cui soldi sono messi da strane finanziarie svizzere dai nomi sempre più impronunciabili una si chiama Actienzelschaft che mettono capitali che non si sa di chi siano 1973 Berlusconi cerca casa colpo di fortuna il figlio di uno dei suoi prestanomi che si chiama Umberto Previti il prestanome è un avvocato fascista calabrese che sta a Roma e che gli appunto gli fa da testa di legno in una delle sue società immobiliari il figlio fa l'avvocato un giovane avvocato si chiama Cesare Previti è il produttore di un'orfana minorenne di una famiglia molto importante della nobiltà milanese la famiglia Casati Stampa che è proprietaria di meravigliosi palazzi a Roma e di una tenuta praticamente sterminata in Brianza in comune di Arcore tre anni prima la famiglia è stata decimata da una strage a sfondo sessuale perché il capofamiglia il marchese Camillo Casati Stampa aveva il vizietto di guardare la moglie si eccitava così mentre andava a letto con i suoi amanti se non che un giorno impazzì e vide la moglie innamorata di una dei suoi amanti e quindi sparò all'amante sparò alla moglie e poi si sparò rimase la povera orfana che non bastando la sfiga di quello che era successo ai suoi genitori si è anche ritrovata come produtore Cesare Previti pensate che ragazza fortunata Cesare Previti le dice ma c'è questa villa con le tenute intorno insomma io avrei il compratore la ragazza si fida del suo produtore e infatti il produtore vende la villa Villa San Martino Villa del Settecento 3.500 metri quadri di villa con pinacoteca quadri d'autore biblioteca di volumi antichi parco di un milione di metri quadrati campi da tennis maneggio scuderie due piscine cascina tenuta agricola totale due milioni e mezzo di metri quadri mezza Brianza sapete quanto la paga Berlusconi 500 milioni di lire non i soldi contanti magari la poveretta viene pagata in azioni di alcune società immobiliari di Berlusconi non quotate per cui questa povera ragazza si trova in mano una carrettata di carta straccia e quando se ne accorge chiede di monetizzare quelle azioni rivendendole a Berlusconi Berlusconi dice ma certo siamo qua per lei però gliele ricompro a metà del prezzo e quindi si porta a casa tutto quel ben di Dio per 250 milioni di lire in contanti pochi anni dopo le banche gli chiedono una garanzia per un prestito e lui dà in garanzia la villa con tutto quello che c'è intorno che ha appena preso per 250 milioni e la dà in garanzia per un finanziamento di 7 miliardi e 600 milioni cioè la carriera di Berlusconi inizia con la truffa ai danni degli abitanti di Segrate che si vedono piovere gli aerei con la spusa dell'ospedale che non c'è e la truffa a un'orfana minorenne che ha appena perso i genitori in una strage familiare io potrei anche fermarmi qui cioè non c'è bisogno di raccontare quello che ha fatto dopo il 73 perché uno che comincia così chi ben comincia è a metà dell'opera che gli vuoi dire a uno che comincia così diciamo che già si poteva intuire dove sarebbe arrivato voi direte in galera no a Palazzo Chigi e al Quirinale ci mancherebbe altro siamo un paese serio naturalmente chi ha raccontato la storia della villa cioè Giovanni Ruggeri e poi Mario Guarino in vari libri di affari del presidente inchiesta sul signor tv sono stati più volte denunciati da Berlusconi hanno sempre vinto le cause quindi è tutto vero e ci sono sentenze che lo dicono e le conosce anche l'avvocato Ghedini che mi meraviglio che quando uno dice delinquente si offenda almeno lui dovrebbe avere lette le sentenze in un condominio della nascente Milano 2 nasce una tv via cavo tele Milano 58 che poi da grande si chiamerà Canale 5 e passerà all'Etere nel 74 Berlusconi si trasferisce alla villa di Arcore richiama Dell'Utri che nel frattempo era tornato a Palermo e si era messo a lavorare in banca e che gli fa da segretario e anche da amministrazione prestanome di un paio di immobiliari Dell'Utri porta con sé Vittorio Mangano un mafioso doc che viene travestito da stalliere o fattore e che si occupa della sicurezza della villa e di Berlusconi Berlusconi dirà che temeva i sequesti di persone giustamente invece di rivolgersi ai carabinieri o alla polizia si è rivolto direttamente alla mafia avendo un senso dello Stato che noi non ce lo possiamo neanche immaginare è lì che nasce la sua vocazione di statista potremmo dire quando temendo i sequestri chiama la mafia Mangano ha già una fedina penale lunga così nonostante che abbia 34 anni perché anche lui è precoce diciamo è un fan prodige diffidato come persona pericolosa nel 67 indagato per reati di ricettazione e tettate estorsione fermato nel 72 in auto con un mafioso e trafficante di droga secondo i carabinieri di Arcore Dell'Utri ha chiamato Mangano pur essendo perfettamente a conoscenza del suo poco corretto passato anzi proprio perché era a conoscenza del suo poco corretto passato se no che se ne facevano di Mangano se era una brava persona scusate la sentenza definitiva per cui Dell'Utri attualmente è in galera a scontare sette anni per mafia dice che l'assunzione di Vittorio Mangano avvenne durante una riunione che si tenne a Milano alla presenza di Dell'Utri Berlusconi da una parte e dall'altra parte i boss mafiosi Stefano Bontate Mimmo Teresi Francesco Di Carlo Gaetano Cinà sentenza definitiva in quella riunione ci fu un patto la mafia proteggeva Berlusconi e Berlusconi aiutava la mafia e Berlusconi infatti da quel giorno cominciò ogni semestre a versare un tot di denaro a Cosa Nostra prima alla mafia di Stefano Bontate cioè alla mafia palermitana e poi quando i corleonesi sterminarono tutti i uomini di Bontate e Teresi Berlusconi continuò a pagare la mafia di Salvatore Riina cioè la mafia corleonese fino almeno al 1992 quindi qualche lira qualche lira di Berlusconi forse è servita anche per comprare il tritolo di Capaci e via da meglio queste sono queste sono sentenze definitive sentenze definitive Ghedini le conosce quindi state tranquilli sa tutto ogni tanto durante la permanenza di Mangano in villa succedevano delle cose spiacevoli per esempio una sera c'era un amico di Berlusconi che faceva gli anni Berlusconi gli organizza una festa di compleanno c'era tutto il Gotha c'era Dell'Utri c'era Confalonieri c'era Berlusconi c'era Dangerio Dangerio che si faceva chiamare principe di Sant'Agata ma in realtà non era principe di un bel niente era un cialtrone infatti era il migliore amico di Berlusconi uscito dalla villa viene rapito viene rapito i carabinieri fanno delle indagini e scoprono che probabilmente il basista del sequestro è Mangano cioè quello che dovrebbe garantire la sicurezza di Berlusconi ogni tanto così per passare il tempo anche per ammazzare per arrotondare gli sequestra dei ospiti della casa Berlusconi viene avvertito dai carabinieri dice ah grazie buono a sapersi si tiene Mangano per altri due anni in casa come se niente fosse in fondo sono ragazzi si devono divertire anche loro c'è chi gioca con l'altalena con i birilli quelli sequestrano vabbè che sarà mai tanto l'hanno restituito o meglio Dangerio riesce a scappare perché i sequestratori nella nebbia vanno a sbattere con la macchina contro una pianta e quindi Dangerio poveretto riesce a mettersi in salvo non credo che le feste di compleanno successive le abbia fatte ancora ad Arcore credo che sia rimasto poi a casa sua che si sentiva più sicuro ogni tanto Mangano veniva arrestato a casa di Berlusconi due volte arrivano i carabinieri dicono guardi portiamo via un attimo il ragazzo perché c'è una pena definitiva da scontare che è arrivata da Palermo però lei non si preoccupa e poi scontata la pena se vuole glielo riportiamo infatti lui vuole sempre se lo fa riportare finita come nuovo è un vuoto a rendere praticamente per cui glielo riportano lui se lo rimette in casa tranquillamente il famoso stagliere in una casa dove non c'erano cavalli c'era un cavalliere cavalli non ce n'erano però c'era lo stagliere e questa questa menata dello stagliere è andata avanti per anni fino a quando i giudici hanno detto ma quali stagliere quello era il guardaspalle infatti accompagnava Marina e Pier Silvio a scuola anche per educarli un po' poveretti per riportarli un po' sulla retta via con un padre come quello che avevano ci voleva un mangano a raddrizzarli un pochino accompagnava lui al lavoro accompagnava la prima moglie a fare la spesa insomma era il guardaspalle era il guardaspalle non lo stagliere ogni tanto scoppiavano anche delle bombe ad Arcore anzi nella sede della Fininvest a Via Rovani e ogni volta che scoppiava una bomba Berlusconi e Dell'Utri si convincevano che era Mangano però non gli dicevano niente non lo denunciavano se lo tenevano stretto tanto diceva beh che sarà mai una bomba ogni tanto uno può anche passarci sopra non lo denunciavano nel 1976 dopo il secondo arresto e il secondo ritorno ad Arcore Mangano viene congedato così dicono almeno Berlusconi e Dell'Utri dicono eh se era saputo in giro che aveva un passato un po' così allora imbarazzati lo abbiamo congedato e Mangano dice ma quale congedato ho dovuto insistere per andare via che mi volevano trattenere ancora al cancello non volevano lasciarmi andare via ma io insomma frequentare quella brutta gente anche a lui imbarazzava insomma quindi a un certo punto ha detto voglio andarmene abbiate pazienza ho un nome da difendere una dignità insomma se si viene a sapere in Sicilia che frequento Berlusconi Dell'Utri insomma è brutto e quindi va via si trasferisce a Milano all'hotel Duca di York dove continua a fare il suo vero mestiere che è quello di il trafficante di droga e riciclatore del denaro sporco per la mafia nel nord Italia il fatto che abbia ragione Mangano e cioè che se ne è andato lui di sua spontanea volontà lo dimostra quello che succede dopo e cioè che Dell'Utri continua a frequentarlo come un vecchio amico non è affatto vero che è imbarazzato e che lo ha fatto fuori tant'è che passano poche settimane e compie gli anni il boss di Catania Antonino Calderone compie gli anni decide di festeggiare con una bella cena a Milano con i picciotti che erano lì in trasferta che lavoravano alla droga eccetera e vuoi mancare alla cena di compleanno del boss di Catania Calderone Dell'Utri è presente naturalmente a festeggiare ai Brindisi al ristorante Le Colline Pistoiesi di via Marcona a Milano vicino a Dell'Utri ci sono i boss Nino e Gaetano Grado intanto Berlusconi per precauzione si trasferisce per qualche settimana in Spagna perché continua a ricevere minacce o meglio ricomincia a ricevere minacce di sequestri non c'è più Mangano e quindi invece di minacciare i suoi amici i mafiosi ricominciano a puntare a lui se ne va un po' in Svizzera poi in Spagna poi ritorna intanto anche Dell'Utri se ne va lascia Berlusconi va a lavorare con Rapisarda Rapisarda è un amico di Ciancimino dei Corleonesi quindi è sempre in buone mani Dell'Utri insomma non è che non è che frequenta brutta gente è sempre gente di un certo livello e per due anni lavora con Rapisarda va a lavorare con Rapisarda anche il fratello gemello di Dell'Utri Alberto e infatti Rapisarda dà loro da amministrare due società Marcello amministra la Bresciano Costruzioni Alberto amministra la Venchi Unica impresa dolciaria torinese falliscono all'istante proprio appena i fratelli Dell'Utri prendono in mano le due società tutte e due società fanno bancarotta fraudolenta in simultanea proprio con la sola forza del pensiero le mandano in bancarotta sono due amministratori di grande vaglia infatti Alberto Dell'Utri finisce in galera Marcello resta a piede libero ma perde il lavoro Rapisarda scappa in Venezuela ospite dei suoi grandi amici Icuntrera Caruana e sono i capi del traffico di droga mondiale in quel mentre Rapisarda prende dei documenti falsi e si fa chiamare Alberto Dell'Utri poi trasloca a Parigi Marcello va a trovarlo e non sapendo come pagare l'affitto va ad abitare nella casa di Rapisarda che tanto è vuota perché Rapisarda è scappato all'estero in via Chiaravalle a Milano è un palazzetto molto bello un palazzetto Liberty dove nel 94 nascerà il primo club di Forza Italia proprio quello dove abitava Rapisarda e dove Dell'Utri andò ad abitare e dove Rapisarda racconterà ai magistrati che ogni tanto arrivava Stefano Bontate svuotava dei valigioni pieni di contanti li lasciava a Dell'Utri e se ne andava intanto Berlusconi viene nominato dal presidente Leone cavaliere del lavoro e acquista una piccola quota nel giornale di Montanelli tra il 75 e l'83 otto anni le 24 holding italiana che compongono l'assetto azionario del gruppo Berlusconi diciamo che sono le controllanti della Fininvest affluiscono 113 miliardi di lire di allora pari a circa 300 milioni di euro di oggi di provenienza misteriosa in parte addirittura in contanti secondo molti pentiti di mafia sono i soldi che la mafia investe nelle televisioni e in Milano 2 secondo Berlusconi è una fortunata coincidenza ma peccato che quando i magistrati gli chiedono dove ha preso tutti quei soldi lui si sia avvalso della facoltà di non rispondere nel frattempo si è incappucciato perché nel 77 nel 78 26 gennaio Berlusconi presentato a Licio Gelli da Roberto Gervaso viene affiliato alla loggia P2 con la tessera 1816 il grado massonico di apprendista muratore e di lì a poco inizia a ricevere crediti enormi da due banche che hanno dirigenti ben messi dentro la P2 il Monte dei Paschi e la Banca Nazionale del Lavoro inizia a collaborare come notista economico con il Corriere della Sera che è controllato dalla loggia P2 che ha l'editore e il direttore iscritti alla P2 nel 79 completa la costruzione di Milano 2 e Berlusconi finalmente diventa presidente di una sua società gli arriva in casa anzi in azienda la Guardia di Finanza che deve fare una verifica all'edil nord e accerta violazioni sulle norme valutarie e ipotesi di attività estero vestite da parte del dottor Berlusconi quindi arriva il finanziere anzi sono tre i finanzieri che gli entrano negli uffici e gli chiedono chi è e lui che è il proprietario dell'edil nord dice sono un semplice consulente incaricato per la progettazione e la direzione generale cioè praticamente si spaccia per il capomastro del cantiere di Milano 2 mentre è il padrone il finanziere di solito non è che si accontentano di così poco indagano quelli no il capo della squadretta dei finanzieri capitano Massimo Maria Berruti poco dopo lascia la Guardia di Finanza e viene assunto come avvocato dalla Fininvest il suo braccio destro il tenente Gallo verrà ritrovato anche lui nelle liste della loggia P2 quindi diciamo che era un'ispezione a occhi chiusi e tutte quelle irregolarità valutarie riscontrate se ne vanno in cavalleria 1980 Berlusconi fonda Publitalia la concessionaria pubblicitaria delle sue reti televisive anzi della sua rete televisiva perché per il momento lui ha soltanto canale 5 fa rientrare Dell'Utri dal gruppo Rapisarda e lo nomina presidente e amministratore delegato di Publitalia quello stesso Dell'Utri che viene intercettato proprio in quell'anno nell'80 dalla criminal poll in un'indagine per traffico di droga al telefono con chi? con Vittorio Mangano chi non muore si rivede Mangano gli propone il secondo affare che ho trovato per il suo cavallo Dell'Utri risponde per i cavalli occorrono i piccioli e io non ne ho Mangano gli dice se li faccia dare dal suo principale Silvio Silvio è il nostro statista che c'era ieri al Quirinale tanto per essere chiari compare in queste simpatiche conversazioni dove si parla di cavalli Borsellino dirà che cavalli nel gergo di Mangano erano spesso partite di droga del resto di tutti sti cavalli di cui si parla dello Stalier non si è mai trovata traccia proprio parlando di quadrupedi con la coda eccetera Dell'Utri quando Mangano gli dice si faccia dare i soldi per i cavalli dal suo principale Silvio Dell'Utri risponde a Mangano quello lì non suda che vuol dire non sgancia non paga è tirato cioè il braccino corto almeno per i cavalli due mesi dopo Dell'Utri è a Londra c'è una grande cerimonia nuziale non a Bankingham Palace naturalmente si sposa un certo Jimmy Fauci pluri pregiudicato ovviamente amico del boss dei boss mafiosi che gestisce il traffico di droga del clan Contrera Caruana fra l'Italia la Gran Bretagna e il Canada può mancare Dell'Utri alle nozze di Jimmy Fauci a Londra assolutamente no infatti è lì alla presenza anche del boss Mimmo Teresi del boss Francesco Di Carlo e del boss Gaetano Cinà manca soltanto Stefano Bontade alla triade che era presente nel 74 all'assunzione di Mangano sono tutti a Londra per le nozze di Jimmy Mangano non c'è e infatti viene arrestato di lì a poco su mandato di Giovanni Falcone per traffico di droga e sarà condannato al processo spatola per associazione delinquere con la mafia e poi al baxiprocesso per traffico di droga quindi dimenticatevi Mangano perché si fa 11 anni di galera ininterrotta intanto Berlusconi riceve notizia che la guardia di finanza sta tornando da lui chissà perché quando arriva la finanza lui si preoccupa è curioso evidentemente ha un'autostima molto bassa oppure ha molte cose da nascondere infatti invece di accogliere i finanzieri dicendo non è niente da nascondere prego scrive a Craxi che è appena entrato nella maggioranza del governo Cossiga segretario socialista caro Bettino come ti ho accennato verbalmente radiofante cioè le voci dall'interno dell'esercito ha annunciato che dopo la visita a Torino Guffanti e Cabassi la polizia tributaria si interesserà a me ti ringrazio per quello che crederai sia giusto fare pensate che meraviglia se tutti gli imprenditori italiani quando si avvicina alla finanza potessero scrivere o telefonare al loro politico di riferimento dicendo ti ringrazio per quello che vorrei fare la guardia di finanza non farebbe assolutamente niente tutto il giorno lui aveva questa stessa fortuna lo stesso anno si innamora di Veronica Lario vedendola recitare completamente nuda nel magnifico cornuto della compagnia di Enrico Maria Salerno e inizia a fare la corte Veronica diventa la sua fidanzata ma non può portarla ad Arcore perché c'è la moglie e così la parcheggia in un'ala del palazzo di Via Rovani quello dove ogni tanto Mangano metteva una bomba tanto è in carcere quindi è al sicuro per qualche tempo la ragazza e quindi come la principessa sul pisello rimane lì clandestina per due anni fino a che non partorirà la prima figlia di secondo letto Barbara a quel punto poi ci sarà l'ufficializzazione e il divorzio 1981 scoppia lo scandalo della P2 si scopre che Berlusconi è membro della loggia di Gelli intanto in Sicilia vengono sterminati tutti i mafiosi amici suoi Bontate Teresi eccetera eccetera si salva Mangano perché è in galera si salva Buscetta perché scappa in Brasile si salva Badalamenti perché viene arrestato in America gli altri vengono uccisi tutti è la seconda guerra di mafia arrivano i Corleonesi e cambia il referente che va a prendere i soldi da Dell'Utri i soldi di Berlusconi da Dell'Utri i nuovi galoppini che vanno a prendere i soldi da Dell'Utri sono i fratelli Ignazio Giovanni Battista Pullarà capi del clan di Santa Maria del Gesù a Palermo nell'82 Berlusconi compra Italia 1 dall'editore Rusconi nel 1983 viene indagato per la prima volta per traffico di droga e riciclaggio di denaro sporco dalla Guardia di Finanza che gli mette sotto controllo i telefoni e scrive in un rapporto investigativo è stato segnalato che il noto Berlusconi Silvio interessato all'emittente televisiva privata Canale 5 finanzierebbe un intenso traffico di sostanze stupefacenti dalla Sicilia con diramazioni sia in Francia che nelle altre regioni italiane in particolare Lombardia e Lazio il predetto sarebbe al centro di grosse speculazioni edilizie e opererebbe nella costa Smeralda avvalendosi di società di comodo aventi sede a Vaduz e comunque all'estero operativamente le società in questione avrebbero conferito ampio mandato di professionisti della zona Roma 30 maggio 1983 8 anni dopo quest'inchiesta verrà archiviata Berlusconi intanto mette su affari immobiliari in costa Smeralda con Flavio Carboni che a sua volta è un uomo in contatto con la banda della Magliana e con uomini vicini a Cosa Nostra ed è l'ultima persona che nell'82 vede vivo Roberto Calvi prima che Calvi finisca impiccato a testa in giù sotto il ponte dei Frati Neri nasce l'operazione Olbia 2 una mega speculazione di Lizio una colata di cemento che distrugge completamente la parte più bella della costa Smeralda Berlusconi è socio occulto di fatto con Flavio Carboni che investe i soldi della banda della Magliana e di Pippo Calò il cassiere di Cosa Nostra a Roma lì acquista a Porto Rotondo 4 delle 12 società create da Carboni e poi comprerà sempre da Carboni anche Villa la Certosa la villa che ha a Porto Rotondo in Costa Smeralda nel 1984 compra anche la sua terza televisione Rete 4 dal gruppo Mondadori e comincia a rastrellare azioni per prendere una piccola quota nel gruppo editoriale che appartiene alla famiglia Mondadori Formenton e a Carlo De Benedetti e così ha tre televisioni solo che non possono trasmettere in diretta e nemmeno in simultanea perché quello è un privilegio riservato soltanto alla RAI alla TV di Stato dalle leggi italiane allora lui aggira l'ostacolo compra antenne in tutta Italia o meglio compra l'elettronica industriale che è una società di antenne di proprietà di Adriano Gagliani che praticamente gli illumina tutta l'Italia con le sue antenne che poi trasmettono programmi di televisioni regionali tutte quante vengono affiliate ai tre marchi Italia 1 Rete 4 Canale 5 e così Berlusconi manda i pizzoni con le bobine con i nastri delle trasmissioni registrate che vengono mandate in simultanea in tutta Italia come se fossero in diretta peccato che la legge lo vieti nel 1984 Berlusconi viene indagato per interruzione di pubblico servizio per chi ha delle antenne abusive sul Monte Cavo che interferiscono nelle frequenze radio della protezione civile e dell'aeroporto di Fiumicino per sua fortuna il giudice che indaga è Renato Squillante e per sua fortuna il suo avvocato è Cesare Previti che tiene a libro paga Renato Squillante l'inchiesta su Berlusconi verrà archiviata a tempo di record mentre gli altri 45 imputati accusati di antenne abusive per altre emittenti verranno tenuti lì sulla graticola per altri 7 anni e se la caveranno soltanto grazie all'amnistia non sanno poveretti che il giudice ha un conto estero in Svizzera comunicante con quello di Previti che a sua volta ne ha uno comunicante con quelli della Fininvest ma siccome quel modo di trasmettere su scala nazionale in simultanea è vietato dalla legge alla fine dell'84 i tre pretori di Torino Pescara e Roma sequestrano gli impianti della Fininvest per indurli a rispettare la legge cioè a trasmettere un po' scaglionati da regione a regione i programmi come prevede della legge Berlusconi scatena l'autoscuramento cioè spegne le sue televisioni e fa credere agli italiani che le abbiano spente i magistrati mentre i magistrati non hanno spento un bel niente gli hanno semplicemente detto di trasmettere non in interconnessione simultanea ovviamente la gente beve tutto Maurizio Costanzo lancia la grande campagna vietato vietare che è una filosofia di vita proprio noi facciamo come cazzo ci pare questa è la traduzione praticamente Bettino Crax in quel mentre è a Londra in visita a Margaret Thatcher ed è il nostro presidente del consiglio ma che ci stai a fare con la Thatcher quando esplode un'emergenza come quella dei tre pretori che vogliono far rispettare la legge a Berlusconi rientra precipitosamente dalla visita a Londra e vara un decreto urgente detto decreto Berlusconi dal nome del beneficiario o come direbbe Ghedini utilizzatore finale che riaccende miracolosamente le tv e consente loro di trasmettere in interconnessione contro la legge neutralizza per legge un'ordinanza dei pretori naturalmente il decreto è incostituzionale infatti persino la democrazia cristiana che rispetto a Berlusconi a Craxi aveva un grande senso dello Stato che è tutto dire è tutto relativo la DC non converte in legge quel decreto perché lo ritiene incostituzionale e allora Craxi ne fa un altro uguale minacciando i democristiani che se non lo convertono in legge si va alle elezioni anticipate che più o meno è quello che sta succedendo in questi giorni non da parte di Craxi che ovviamente agiva per conto di Berlusconi per conto di Berlusconi che agisce per conto di se stesso e non deve neanche pagare il conto a Craxi perché dovrebbe fare un giro conto e pagare se stesso per i favori che lui stesso fa a se medesimo il decreto così diventa legge e così l'illegalità per la prima volta viene legalizzata nel 1985 Berlusconi si sdebita con Craxi perché? perché Liri sta per sbolognare un'azienda decotta un'azienda che costa allo Stato un sacco di soldi e non rende niente si chiama Sme che mette insieme un po' di marchi dell'alimentare perché lo Stato deve fare panettoni motta palettoni alemagna uova di Pasqua questo faceva la Sme vendiamola privatizziamola dice Prodi che è presidente dell'Iri chi la vuole comprare un unico compratore il proprietario della Boitoni chiede Benedetti ma dato che Benedetti sta sulle palle a Craxi perché edita i giornali della Mondadori che sono nemici di Craxi e sono un po' più di sinistra allora Craxi dice a Berlusconi di impedire che De Benedetti compri la Sme Berlusconi cosa fa? riunisce due imprenditori del ramo alimentare Barilla e Ferrero e li convince a fare un'offerta un filino più alta di quella di De Benedetti poco poco ma dato che quelli tardano a farsi convincere manda avanti un prestanome di Previti a fare un'offerta coperta c'è un certo avvocato scalera che presenta un'offerta e non dice di chi è è Berlusconi quello che fa l'offerta ma non compare così offerta coperta poi offerta scoperta di Berlusconi Barilla e Ferrero l'affare salta e praticamente De Benedetti denunciarli per avere tradito il patto già sottoscritto la causa finisce davanti a un magistrato della tribunale di Roma fortuna per Berlusconi e Previti vuole che quel giudice sia il giudice Filippo Verde che è un ottimo amico di Cesare Previti e quindi la causa dà ragione a Berlusconi e torto a De Benedetti intanto Berlusconi ufficializza il legame con Veronica molla la prima moglie e compra a Veronica Lario e poi ai figli che verranno Eleonora Luigi oltre a Barbara una villa settecentesca stavolta a Macerio sempre in Brianza ma come vi dicevo comprare una villa e seguire le leggi non è da Berlusconi riesce a violarle anche comprando quella villa pagando dei fondi neri al proprietario e infatti avrà un processo anche per Macerio nell'86 compra il Milan poi mette su una televisione in Francia la Senc grazie all'appoggio dei socialisti poi però arrivano i gollisti di Chirac e la Senc senza più gli appoggi politici chiude perché questo grande imprenditore quando non ha appoggi politici è una pippa di dimensioni galattiche lo spacciano per grande imprenditore perché aveva dietro la mafia Craxi la P2 eccetera ma lasciato nudo a se stesso non ne ha mai azzeccata una mai mai infatti lo dimostra l'avventura francese i socialisti gli spalancano le porte poi finiscono gli appoggi politici e ti saluto la Senc c'è una memorabile dichiarazione di Chirac neopresidente francese che esulta per la cacciata del barbaro vi lascio immaginare la merda che trasmetteva la Senc in un paese come la Francia e quindi Chirac si felicita col popolo francese per il ritorno in Italia di questo vendeur de soup lo chiama questo venditore di minestre questa è la definizione che dà Chirac che dopo delinquente devo dire è la migliore 28 novembre 86 attenzione scoppia un'altra bomba contro il palazzo di via Rovani per fortuna Veronica è già a Maccherio Berlusconi a chi pensa ormai è un riflesso condizionato dice Saramangano Saramangano infatti arrivano i carabinieri che hanno sentito il botto non perché lui abbia denunciato lui non denuncia mai in questi casi meglio lasciar perdere già c'hai sempre i carabinieri i magistrati i finanzieri in casa ci manca ancora che li chiami poi magari entrano non se ne vanno più lasciamo perdere però quelli sentono il botto arrivano e lui dice guardi secondo me Mangano poi va ad Arcore e chiama Dell'Utri senza sapere che Dell'Utri tanto per cambiare è intercettato dalla procura di Milano in un'inchiesta per mafia e quindi questa telefonata c'è è meravigliosa e gli dice è stato Mangano e l'altro fa ah sì perché a Dell'Utri gli risulta che Mangano è in galera dice come fa dalla galera con la forza del pensiero a far esplodere via Rovani cioè no no è stato Mangano dice Berlusconi un chilo di polvere nera una cosa rozissima ma fatta con molto rispetto quasi con affetto cioè sono quelle cose no che ti restano nel cuore no poi che no la prima bomba non si scorda mai anche la seconda sono le modalità manca solo la M di Mangano no però sono le tipiche modalità di Mangano un altro no magari farebbe sfracelli sarebbe anche scarbato invece lui proprio carino no chilo di polvere nera una cosa rozissima fatta con molto rispetto quasi con affetto un altro manderebbe una lettera raccomandata lui invece ha messo la bomba è un suo modo di esprimersi è un un altro farebbe una lettera scrivendo pagate tot entro la tal data altrimenti salta tutto no invece lui carino no più più garbato lui invece ha messo la bomba risponde Dell'Utri per forza non sa scrivere ecco vedete c'è sempre un'alternativa all'analfabetismo no a quel punto Berlusconi minimizza dice si in fondo è un segnale acustico guardate che c'è tipo dopo il segnale acustico lasciare un messaggio bam e aggiunge spiacerebbe se i carabinieri da questa roba qui gli tolgono la libertà personale di nuovo ecco pare brutto riarrestarlo per così poco no in fondo per un segnale acustico ora chi risolve il rebus Mangano è dentro è fuori bu Dell'Utri risolve Dell'Utri sa sempre tutto chiama Cina Cina c'ha proprio l'elenco dei detenuti c'è questo è dentro questo è fuori Cina però al telefono non parla a differenza di questi che sono dei dilettanti Cina è un vero mafioso prende l'aereo e va a Milano a Milano da Dell'Utri dice no no guarda Mangano è ancora in galera non è stato lui tant'è che poi i pentiti diranno che quello era un attentato fatto dagli uomini di Santa Paola i nuovi capi della mafia di Catania che volevano aumentare un po' la quota Fininvest non sapendo scrivere no invece di dire la quota è insufficiente rimpolpare no ha messo la bomba questo segnalino acustico che comunque è subito arrivato a destinazione infatti Berlusconi aumenta gli stanziamenti per Cosa Nostra a fine anno per Natale Gaetano Cina spedisce a Berlusconi dell'Utri con Falonieri tre cassate in regalo quella di Berlusconi pesa 12 chili tant'è che pensate 12 chili una roba mostruosa tant'è che Cina dice a De Lutri ho dovuto far fare una cassa apposta dal falegname e ci ho fatto disegnare sopra anche lo stemma di Canale 5 il biscione una cassata col biscione mandata da Cina nell'87 anzi nell'88 Berlusconi chiama un suo amico immobiliarista Renato della Valle che è intercettato naturalmente tutti gli amici di Berlusconi sono intercettati ma non perché sono amici di Berlusconi perché sono delinquenti e Berlusconi dice a questo della Valle non c'entra niente con Diego della Valle è questione immobiliarista ho un casino abbastanza grosso per cui devo mandare via i miei figli dice Berlusconi che stanno partendo adesso per l'estero perché mi hanno fatto un'estorsione in maniera brutta una cosa che mi è capitata altre volte dieci anni fa e adesso sono ritornati fuori sai siccome mi hanno detto che sento una certa data non faccio una roba mi consegnano la testa di mio figlio a me ed espongono il corpo in piazza Duomo sono cose poco carine da sentirsi dire e allora ho deciso li mando in America e buonanotte se fossi sicuro di togliermi questa roba dalle palle pagherei tranquillo cioè se fosse il solito segnale acustico no io pago figuriamoci ma questi mi hanno detto che mi fanno trovare la testa di mio figlio poi per Silvio e l'appendono in piazza Duomo e quindi Berlusconi li manda all'estero avrà denunciato questo tentativo di estorsione naturalmente no noi lo sappiamo perché della valle era intercettato ma non certamente perché lui abbia denunciato anzi quando i magistrati di Palermo cercheranno di capire che cosa doveva fare entro una certa data per evitare che uccidessero suo figlio Berlusconi si avverrà della facoltà di non rispondere esattamente come quando gli hanno chiesto dove aveva preso tutti quei soldi nell'88 acquista la standa dal gruppo Ferruzzi Montedison e poi dà un'altra scalatina alla Mondadori diventando il terzo socio dopo De Benedetti e gli eredi Mondadori Formenton però De Benedetti si fa furbo e fa con la famiglia Mondadori Formenton un accordo scritto in cui gli eredi Mondadori si impegnano a dargli tutte le loro azioni entro il 30 gennaio del 91 e così la proprietà è blindata in mano a De Benedetti la Mondadori controlla Repubblica l'Espresso Panorama Epoca una miriade di giornali locali e poi tutto il ramo libri è il primo gruppo editoriale italiano ma Craxi vuole metterci le mani su quel gruppo perché è un gruppo vicino alla sinistra e ostile a Craxi ad Andreotti a Forlani che governano l'Italia e chi usa per comprarsi la Mondadori anzi per rubarsi la Mondadori Berlusconi che gli deve i favori dai tempi dei decreti e che adesso gli dovrà di nuovo dei favori perché sta arrivando la legge ma mi sulle televisioni che se mai prevedesse un principio antitrust in quale paese del mondo consentirebbe al Cavaliere di avere tre televisioni in un paese dove ce n'erano sei e un pezzettino e infatti Berlusconi parte alla scalata parte alla scalata della Mondadori e nel 1990 convince gli eredi Mondadori a dare a lui le azioni che avevano per iscritto promesso a De Benedetti cioè a tradire un patto scritto De Benedetti ovviamente rivendica la proprietà di quelle azioni Berlusconi dice sono mie De Benedetti dice sono mie le due parti in conflitto si affidano a un arbitrato il presidente del collegio arbitrario decide il tribunale uno dei due arbitri lo decide De Benedetti uno dei due arbitri lo decide Berlusconi e la famiglia Mondadori l'arbitrato dà ragione a De Benedetti l'accordo di De Benedetti con i formentoni Mondadori era valido la Mondadori è sua Berlusconi siccome gli arbitri gli hanno dato torto impugna impugna il lodo arbitrale il famoso lodo Mondadori davanti alla corte d'appello di Roma e lì altro colpo di fortuna il giudice che fa la sentenza è un giudice a libro paga di previti con soldi di Berlusconi e infatti si pecca 400 milioni di lire in cambio di una sentenza comprata che annulla il lodo Mondadori e regala la Mondadori a Berlusconi questa sentenza è comprata secondo un verdetto definitivo della magistratura italiana che naturalmente arriverà vent'anni dopo e Berlusconi dovrà risarcire con 560 milioni di euro De Benedetti per avergli rubato la Mondadori con dentro i libri i giornali quindi quando voi leggete Mondadori sotto un libro voi pensate a Marina Berlusconi e a suo padre bene sappiate che l'hanno rubata non è loro è refurtiva la Mondadori ok è refurtiva 1991 avvenivano queste cose e nel 92 esplode Tangentopoli intanto a Palermo c'è grande movimento perché la Cassazione ha confermato le condanne dei mafiosi al maxiprocesso Dell'Utri è impegnato all'inizio dell'anno in una missione di alto concetto deve propiziare un provino nelle giovanili del Milan per Gaetano D'Agostino un giovane calciatore figlio di un complice dei fratelli Graviano cioè quelli che stanno organizzando le stragi che di lì a poco esploderanno il 6 aprile ci sono le elezioni politiche Berlusconi gira uno spot al pianoforte in cui con Bobo Craxi e Caterina Caselli fa un invito a votare per il partito socialista per la grande credibilità del governo Craxi porta anche bene perché nel giro di 6 mesi Craxi riceve l'avviso di garanzia e finisce la sua carriera politica il 21 maggio in Parlamento si vota per il nuovo presidente della Repubblica due giornalisti francesi di Canal Plus vanno a intervistare Paolo Borsellino per un'inchiesta sul traffico di droga e Borsellino racconta che ci sono ancora indagini aperte a Palermo sui rapporti fra Mangano Dell'Utri e Berlusconi due giorni dopo Giovanni Falcone salta in aria all'autostrada di Capaci insieme alla moglie agli uomini della scorta la strage accelera la crisi per l'elezione del presidente dopo 15 giorni di fumate nere finalmente viene eletto non più Andreotti che dalla strage Lima e dalla strage Falcone tutti hanno capito essere il vero obiettivo dei mafiosi per non avere bloccato il maxiprocesso in Cassazione non avere imposto il solito giudice ammazza sentenze Corrado Carnevale a presiedere il collegio e quindi viene eletto al suo posto Oscar Luigi Scalfaro che lì a poco chiama Giuliano Amato a presiedere il nuovo governo perché non Craxi perché tutti sanno che Craxi ha i giorni contati con l'inchiesta di Mani Pulite che sta arrivando rapidamente a lui dopo la strage di Capaci Marcello Dell'Utri ha un'intuizione qui crolla tutto i partiti finiranno presto noi resteremo senza sponsor in Parlamento dobbiamo buttarci in politica direttamente noi come Fininvest dice ma non lo dice Berlusconi lo dice un suo consulente Ezio Cartotto e gli commissioni uno studio per un partito della Fininvest Cartotto di nascosto pagato da Publitalia con fatture false ci mancherebbe altro inizia a lavorare a quella che poi si chiamerà Forza Italia intanto il 19 luglio c'è l'altra strage a Palermo e viene ammazzato Paolo Borsellino insieme agli uomini della scorta e iniziano le indagini sulla Fininvest Mani Pulite arriva in Fininvest fin dal 92 indagando tutti i principali collaboratori di Berlusconi il fratello Paolo che entra e esce di galera Dell'Utri con Falonieri Gianni Letta Galliani tutti quanti verranno indagati no questo per smentire la leggenda secondo cui Berlusconi fu colpito solo quando entrò in politica è esattamente il contrario Berlusconi entrò in politica perché Mani Pulite stava arrivando a lui le inchieste non sono la conseguenza del suo ingresso in politica sono il movente del suo ingresso in politica stavano per arrestarlo ovviamente come stava succedendo in tutti i grandi gruppi imprenditoriali nel 1993 Dell'Utri viene beccato mentre è in contatto con alcuni signori del sud che stanno fondando i partiti della mafia che si chiamano leghe siciliane Sicilia libera e altri ma poi vira decisamente verso quella sua idea che adesso è condivisa anche da Berlusconi e cioè un partito della Fininvest Berlusconi comunica che entrerà in politica il 4 aprile del 93 quindi un anno prima di farlo a Bettino Craxi in una riunione ad Arcore insieme a Cartotto il consulente di Dell'Utri l'8 aprile Gianni Letta confessa una tangente al partito socialdemocratico il 18 maggio viene arrestato per corruzione il braccio destro del ministro Mammi che è quello che ha fatto la legge sulle televisioni su misura per la Fininvest e poi vengono fuori altre tangenti del gruppo che inducono Berlusconi ad accelerare il progetto Forza Italia sperando di arrivare prima che arrivino i magistrati a lui cade il governo Amato perché gli avevano indagato quasi tutti i ministri per cui erano 8 ministri indagati restava solo Amato praticamente ha spento la luce ha chiuso la porta e solitario ha lasciato al governo Ciampi che doveva tenere buono per qualche mese prima di arrivare alle elezioni ma nel gruppo Fininvest c'era anche chi si opponeva all'ingresso in politica chi era contrario al progetto di Berlusconi Montanelli direttore del giornale Gianni Letta e fedeli confalonieri ma soprattutto Maurizio Costanzo infatti il 14 maggio la mafia manda un segnale acustico a Maurizio Costanzo facendogli saltare la macchina e per un pelo Maurizio Costanzo non ci lascia le penne nella strage di Via Fauro il 27 maggio altra autobomba a Firenze alla Torre dei Pulci che si mangia un pezzo di Museo degli Uffizi altri morti e feriti e poi sono le prime volte che Cosa Nostra colpisce nel continente il 29 giugno Dell'Utri Previti e altri Berlusconiani di Ferro costituiscono l'associazione per il buon governo presso lo studio del notaio Roveda a Milano il 3 luglio Berlusconi riunisce ad Arco i dirigenti del Fininvest e i direttori dei suoi giornali e delle sue tv e dice che si sente perseguitato dai giudici e che bisogna assolutamente entrare in politica poi preso da un attimo di sconforto dice non so se facciamo bene con Faloniere Letta dicono che è una pazzia entrare in politica mi distruggeranno faranno di tutto andranno a frugare tutte le carte diranno che sono un mafioso che è strano come presagio per un imprenditore della Brianza cioè voi conoscete qualcuno della Brianza che dice diranno che sono un mafioso perché sta in Brianza lui invece aveva sta fissa diranno che sono un mafioso chissà come mai cosa devo fare a volte mi capita perfino di mettermi a piangere quando sono sotto la doccia pensate questa scena straziante intanto Salvatore Cancemi primo boss della cupola a pentirsi si consegna alla giustizia e inizia a parlare di mafia e politica di lì a poco racconterà proprio quello che teme Berlusconi e cioè rapporti tra la mafia dell'utri Berlusconi e le stragi 27 luglio ci sono le stragi di Milano e di Roma alle basiliche e al padiglione di arte contemporanea il 6 settembre Berlusconi inaugura il primo club di Forza Italia nella casa di Rapisarda dove abitava anche dell'utri dove ogni tanto bontate rovesciava le sue valigie piene di contanti la mafia abbandona il progetto di fare il suo partito Sicilia Libera perché ce n'è un altro molto più promettente quello che dell'utri sta portando avanti infatti Provenzano secondo tutti i suoi collaboratori pentiti fa vota e fa votare per Forza Italia dell'utri incomincia ricomincia a incontrare Mangano a novembre del 93 a quattro mesi dalle elezioni Mangano è appena uscito di galera dopo 11 anni va a trovare dell'utri dell'utri non è che lo mette alla porta dicendo ma come faccio a incontrati sei appena stato in galera per 11 anni fatto arrestare condannare da Falcone e Borsellino che sono morti come faccio a riceverti invece nelle sue agende proprio si trovano gli appuntamenti 2 novembre Mangano Vittorio sarà a Milano per parlare problema personale annuncia annota la segretaria dell'utri Mangano verso il 30 novembre avverte lui quando arriva interrogato dai magistrati di Palermo dell'utri spiegherà che Mangano andava continuamente a Milano asfissiandolo con dei suoi problemi di salute essendo malato Mangano andava da uno laureato in legge che si occupava di pubblicità per curarsi praticamente con tutti i medici bravi che ha la mafia andava a Milano e si curava da dell'utri e noi naturalmente ci crediamo il 94 inizia con quella che dovrebbe essere l'ultima strage il 21 gennaio c'è una partita della Roma all'Olimpico e lì Spatuzza il killer dei Graviano ha sistemato una bomba un'autobomba che deve fare strage di carabinieri al termine della partita la bomba non esplode per un guasto all'innesco Spatuzza viene lasciato a Roma per riprovarci in una successiva domenica ma nella stessa settimana il 27 Berlusconi annuncia la discesa in campo e da allora la strage non verrà più fatta non c'è più bisogno di stragi così come sono iniziate le stragi finiscono di botto all'improvviso uno può pensare che i mafiosi abbiano voluto fare due anni di fuochi d'artificio che fossero impazziti o che fossero nervosi oppure può pensare che volessero lanciare dei segnali acustici e che i segnali acustici alla fine siano stati recepiti da qualcuno tant'è che sono finiti anche i segnali acustici così come erano iniziati è singolare che le stragi si interrompano con l'annuncio con la videocassetta registrata con la calza davanti alla telecamera di Berlusconi che dice questo è il paese che amo e ho deciso di scendere in campo per la moralizzazione della vita pubblica e altre amenità che vi risparmio così inizia l'avventura politica di Berlusconi che naturalmente continuerà negli anni e che non ho tempo ovviamente di raccontarvi ma molti di voi l'hanno sicuramente seguita e altri ne hanno sicuramente sentito parlare vorrei concludere dato che ci hanno detto per tutta la campagna elettorale che l'Italia rischiava di finire nel baratro del populismo del discredito delle mani di incompetenti che ci avrebbero fatto fare figure tremende a livello internazionale ai populisti anti-europeisti gente che non sa come si tratta con gli statisti ve lo vedete un Di Maio o un Salvini parlare con la Merkel no? e c'è Renzi che le portava la maglia di Gomez non di Peter Gomez del giocatore della Fiorentina a una Merkel che aveva già tutta la collezione di Gomez perché è tedesco ovviamente o Berlusconi che faceva le corne il cucù eccetera a Verne no? e quindi così ho collezionato serie di sue esternazioni la mia carriera canora è cominciata con una tournée in Libano Berlusconi non è mai stato in Libano mai al Gardenia di Milano come poi sarebbe avvenuto a Parigi dopo aver cantato mi buttavo in pista per ballare con le bionde Berlusconi non ha mai suonato a Parigi mai ho studiato due anni a Parigi alla Sorbona e per mantenermi dovevo suonare e cantare nei locali della capitale Giuseppe Fiori suo biografo ha controllato nei registri della Sorbona Berlusconi non ha mai messo piede alla Sorbona a Parigi facevo il canottaggio ed ero campione italiano studentesco con il CUS di Milano dalle dimensioni sarebbe compatibile no? come devono essere molto ridotti per entrare in una però non risulta che Berlusconi sia mai stato campione di nulla né tantomeno di canottaggio sono uno dei pochi politici che fa politica non per soldi sono un imprenditore che non ha mai fatto affari forse vuole dire un politico che non ha mai fatto affari e già è grossa ma un imprenditore che non ha mai fatto affari non dice allora sei una pipa vera non ho mai pagato una donna in vita mia cioè noi di Forza Italia abbiamo una moralità di livello così elevato che gli altri non possono nemmeno percepirlo infatti nessuno l'ha poi percepito questo è un interrogatorio i magistrati lo accusano di una tangente di 23 miliardi a Craxi tutto documentato estero su estero bonifici in Svizzera roba seria lui dice giuro sulla testa dei miei figli che non è vero niente poi va dai magistrati e dice sono innocente infatti le pare che avrei giurato il falso sulla cosa che ho più cara cioè i miei figli ma vi pare che uno si possa difendere in questo modo cioè va dal magistrato e dice guardi si figli ho giurato sui miei figli io ricordo che Dario Fo faceva una gag meravigliosa di Berlusconi che giurava sui suoi figli e ai figli gli veniva una dissenteria immediata ogni volta che giurava una balla su di loro questa l'ha detta in tribunale in un processo per corruzione di giudici solo un folle pagherebbe dei giudici da banca a banca anziché in contanti io mi ricordo mi ricordo che c'era la presidente la Luisa Ponti quella col caschetto che c'è invecchiata in quel processo che è durato anni con le ragnatele che lo guardava mentre lui spiegava come si fa a corrompere un giudice diceva anche il gesto della tasca come dire si tira fuori si dà il rotolo ma dai su il guaio è che avevano trovato i bonifici lui diceva ma dai un giudice avrebbe dovuto dire vabbè il bonifico è un'illusione ottica perché lui mi sta spiegando che è da scemi fare il bonifico il problema è che c'era il bonifico questa è la detta la festa nazionale della guardia di finanza c'è una norma di diritto naturale che dice che se lo Stato ti chiede un terzo di quello che con tanta fatica hai guadagnato questa ti sembra una richiesta giusta e gliela dai se lo Stato ti chiede di più o molto di più c'è una sopraffazione nei tuoi confronti allora ti ingegni per trovare dei sistemi elusivi o addirittura evasivi che senti in sintonia con il tuo intimo sentimento di moralità che non ti fanno sentire intimamente colpevo alla festa della guardia di finanza davanti a dei ragazzi che guadagnano 1500 euro al mese che devono andare a trovare l'evasione fiscale di gente che guadagna mille volte quello che guadagnano loro infatti prendevano appunti da allora entrano nelle aziende e dicono senta lei ha i vaso in termini che contraddicano col suo intimo sentimento di moralità se mai sentito colpevole intimamente mai fatto affari con la politica anzi ci ho sempre perso Oliverian che era sua al 100% mai conosciuta vi pare che col mio senso estetico avrei potuto accettare una società con quel nome così pensava di essere assolto naturalmente lo condannava cioè dovevano credere che non era sua anche se era al 100% sua perché aveva un nome che a lui non piaceva ora ora vado a fare gli esercizi spirituali soliti alle bermude quando lo beccarono in vestito di bianco con letta fede tutti incolonnati erano esercizi spirituali seguiti da cene eleganti e poi l'ultimo della campagna elettorale ho promesso ho promosso alcuni studi dell'università e dell'ospedale San Raffaele secondo i ricercatori l'obiettivo a portata di mano è quello di accrescere nel prossimo futuro la prospettiva di vita fino a 120 e 120 anni e minacciava proprio di brutto ho segnato anche alcune belle figure i give you the salutation of my president of the republic questo è lui che tenta di parlare inglese a un vertice dei ministri delle finanze di bruxelles vi porto i saluti del mio presidente della repubblica i give you the salutation sembra celentano non svalutation presencoli in sena inciuso serata di gala con George W. Bush Washington tre anni dopo l'attacco alle torri gemelle vorrei qui ricordare l'attacco del comunismo alle due torri immaginate lei si dice ma non era al-Qaeda signor Schulz so che in Italia c'è un produttore che sta montando no ma perché voi conoscete solo la prima parte che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti la suggerirò per il ruolo di capò qui sta inaugurando il semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea e rispondendo alla domanda del capogruppo dei socialdemocratici Martin Schulz sul suo conflitto di interessi 2 luglio 2003 a quel punto i parlamentari iniziano a rumoreggiare e a battere sui tavoli chiedendo una rettifica è il loro presidente che sta parlando in quel momento Gianfranco Fini perde di vista il fatto che sta al Parlamento Europeo e si tira fuori una sigaretta dalla giacca per smaltire il nervosismo e poi la rimette perché capisce che non può accendersela buttiglione è più impietrito del suo solito a quel punto Berlusconi tenta di rimediare e naturalmente come sempre accade peggiora la situazione siete tutti dei turisti della democrazia turisti della democrazia all'uscita del palazzo anche gli alleati lo implorano di rettificare e di chiudere l'incidente e lui invece tentando di recuperare continua ad aggravare la sua posizione non ho offeso Schulz quella sul capo era solo una battuta per cui è scoppiato a ridere l'intero Parlamento Europeo un'osservazione di 20 secondi poiché volevo semplicemente scherzare per allentare l'atmosfera e poi spiega perché secondo lui è simpatica la sua battuta dare del capo nazista al capo dei socialisti cioè i più antifascisti che ci siano lì dentro in Italia tengono banco da decenni storielle sull'olocausto io stesso ne ho raccontate diverse pensate il presidente del consiglio dell'Unione Europea che dice che lui racconta barzellette sull'olocausto non so ma una cosa gli italiani sanno scherzare sulle tragedie per superarle forse non abbiamo la sensibilità che avete voi in Germania e te credo quelli ci avevano i lager a quel punto protestano anche le comunità israelitiche italiane che erano rimaste buone fino a quel momento le dichiarazioni sono un'office agli italiani che si indignano di fronte a pochi imbecilli che raramente raccontano barzellette sull'olocausto dice Riccardo Pacifici portavoce della comunità israelitica cronaca del time di Londra nel bel mezzo del discorso di Chirac in Canada Berlusconi si è alzato e ha cominciato a distribuire orologi del Milan agli altri leader con un delizioso sprezzo politico questa è una cronaca del giornale russo Commerzant una giovane giornalista italiana in abito succinto si è seduta davanti a Putin protendendo il registratore e divaricando le gambe il panorama dalla reazione di Berlusconi non potevano sognarselo neanche gli agenti dell'FBI interrogando Sharon Stone in Basic Instinct il premier italiano ha chiuso gli occhi ha teso le braccia verso la giornalista e a gesti ha descritto la visione che gli si era parata davanti agli occhi vi assicuro erano gesti espressivi da artista questo è Berlusconi nel vertice europeo di Bruxelles del 2003 Silvio è cronaca del Financial Times Silvio Berlusconi si guarda intorno e propone ragazzi parliamo di donne? poi racconta la barzelletta dell'elicottero che cade ma il primo ministro polacco è ancora sulla sedia a rotelle per un incidente aereo il silenzio il silenzio si diffonde nella stanza i problemi europei erano già difficili ma Berlusconi ha contribuito parecchio al fallimento del vertice altra cronaca del russo Commerzant sulla visita di Berlusconi e Putin allo stabilimento Merloni di Lipetsk a 400 km a sud di Mosca 2004 il premier italiano era particolarmente attivo ed era chiaro che aveva un obiettivo non sarebbe stato contento se non fosse riuscito ad avvicinarsi a un gruppo di operai e poi rivolto a Putin disse voglio baciare la lavoratrice più brava e più bella aveva già individuato la sua vittima si è avvicinata a una donna grande come la Sardegna e con tutto il corpo ha fatto il gesto tipico dei teppisti negli androni bui dei cortili quando importunano una ragazza che era in casa lei si è scansata ma il signor Berlusconi in passato deve aver fatto esperienza con donne anche più rapide di questa con due salti ha raggiunto la ragazza e ha iniziato spudoratamente a baciarla in faccia e ha scosso l'operaia ridendo quasi volesse buttarla a terra l'unica cosa che la donna ha potuto fare è stato rifiutarsi di ricambiare i baci Putin assisteva alla scena immobile raggelato pare non sopporti più i continui scherzi e giochetti pesanti dell'amico io sono un ragazzo della guerra che per 50 anni ha vissuto nell'angoscia della guerra fredda e che nel 2002 è riuscito a far entrare la Russia nella Nato la Russia non è mai entrata nella Nato nessuno ha mai pensato che la Russia potesse entrare nella Nato naturalmente chissà che cosa si è convinto di fare lui visto che ripetendo in giro questa è la nostra campagna elettorale io direi che c'è poco altro da aggiungere se non che se tutti avessero descritto Berlusconi per quello che è e per quello che ha fatto e se tutti avessero almeno il coraggio di dire che oggi è ora di basta è ora di finirla probabilmente l'altro giorno avrebbe avuto qualche problema ad andare al Quirinale anche se ci fosse andato ci sarebbe andato per ultimo e non per primo insomma io credo che lui faccia tutto quello che fa anche perché molti gli consentono di farlo da questo punto di vista il centro-sinistra ha responsabilità ha responsabilità gravissime nell'averlo salvato 200.000 volte e l'idea che ci sia ancora qualcuno perché c'è ancora qualcuno nel partito democratico che pensa di far fallire ogni esperimento di governo che coinvolga chi ha vinto le elezioni e cioè i 5 Stelle e la Lega per ritornare a fare un pateracchio con Berlusconi perché è questo la vera ragione per cui Renzi ancora non consente al suo partito di muoversi beh io credo che ce ne sarà abbastanza un giorno o l'altro per fare un processo di Norimberga solo politico naturalmente non giudiziario a chi ha consentito che la carriera di un personaggio che sarebbe dovuto essere stroncato nel lontano 74 e che ancora non è stata stroncata nel 2018 bisognerà farlo grazie